sì però io volevo fare dei monologhi volevo fare degli spettacoli volevo fare delle narrazioni ma non si può non si può i teatri sono chiusi non si può andare da nessuna parte sapete di cosa mi piacerebbe moltissimo parlare del diavolo il diavolo il diavolo è una figura affascinante su cui l'uomo continua a raccontare storie e ad inventare storie da millenni millenni e allora per me sarebbe bellissimo inseguire le tracce di ciò che noi chiamiamo satana dall'inizio dalla primissima comparsa nell'antico testamento fino ai capolavori della letteratura moderna e vedere come il diavolo si trasforma in questo viaggio millenario nel tempo acquisisce una ad una le caratteristiche che sono penetrate nel nostro immaginario e altre caratteristiche sue col tempo invece scompaiono magari si nascondono per poi riapparire dopo secoli dopo millenni allora questo è un viaggio che mi piacerebbe fare mi piacerebbe molto fare e io lo faccio mi ribello alla mala sorte mi rivolto contro la situazione attuale io lo faccio sai quando lo faccio adesso lo faccio in forma digitale lo faccio in puro spirito a roma vado a roma in puro mundi che è una libreria esoterica dove il puro spirito lo accolgono a braccio aperte e se voi volete venire ad ascoltarmi in questo evento digitale potete venire se ve la sentite potete venire dovete varcare la porta per varcare la porta bisogna cliccare sul link che c'è lì che c'è lì il link ve lo indico è lì sotto in descrizione potrebbe andare a finire qui perché poi a volte il web è diabolico comunque dovrebbe essere lì accedete a una pagina in cui si paga un biglietto digitale e dopo di che voi entrate nella stanza digitale dove sono io che racconto questa cosa voi non acquistate il file voi non comprate diremmo in un linguaggio arcaico il dvd no voi acquistate l'ingresso nella sala dove viene proiettato il film diciamo così però è una di quelle sale vecchio stampo dove andavo io da ragazzino in cui puoi rimanere a vedere il film per due tre proiezioni anche più consecutive finché ti pare cioè da quando comprate il biglietto il video è visionabile fruibile per 48 ore mi raccomando non comprate il biglietto e poi vi dimenticate me lo guardo mercoledì prossimo no scompare puff puff non rimane più niente poi poi vi sentite truffati da mercadini ma io non che voglio truffare io non sono il diavolo sono una persona buona perché un conto è il narratore un conto è il soggetto narrato sono due cose diverse comunque il diavolo una biografia millenaria io sono la a roma in forma digitale se volete venire digitalmente ad ascoltarmi a vedermi l'ingresso è qui nel link ciao ci si vede